Buongiorno, siamo lieti di ascoltarla in questi giorni e anche ora, perché no, se vuole rivolgerci una parola. Buona domenica a tutti, benvenuti, grazie di questo servizio e anche questa compagnia, io la vivo come una compagnia. Grazie per il vostro lavoro e piacerebbe salutarvi, come sempre, credo che io ce la faccio girare, possiamo andare. Stiamo attenti a questo viaggio che, come ha detto, è un viaggio penitenziale, facciamolo con questo spirito. Io vorrei che oggi non c'è l'Angelus, ma facciamola qui l'Angelus. E' la giornata dei nonni, i nonni, le nonne, che sono coloro che hanno trasmesso la storia, le tradizioni, le abitudini e tante cose. Oggi ci vuole tornare ai nonni, dirò così come un leitmotiv, nel senso che i giovani devono avere contatto con i nonni, riprendere da loro, riprendere le radici, non per rimanere lì, ma per portarli avanti. Nonni, 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 nonni. Nonni, 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 nonni Grazie a tutti Grazie a tutti